Una passione è quella della moda che poi lui coltiva sin da quando era piccolino. La moda per Antonino è soprattutto arte e adesso ci siamo, è il momento di sognare tutti insieme perché vedremo quindi un'arte prima di alcuni campi della collezione di Antonino Cedo. Grazie a tutti. Uno stile ricercato di pura artigianalità, rigorosamente made in Italy. Curano i dettagli, abiti da sogno che puntano sulla seduzione e sulle trasparenze. Abiti tradizionali ma al contempo innovativi. Tesuti di seta, scinforna, vizi lavorati e sbaroschi per essere uniche in gioco più importante del settore. Grazie a voi, grazie a te Antonino perché mi hai accolto veramente in maniera carolosa. Non me l'aspettavo davvero un'accoglienza del genere, quindi mi hai emozionata. Quindi devo io ringraziare te per quello che hai fatto, per avermi fatto indossare questo abito che è veramente magnifico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.